È chiuso il lunedì. Allora adesso andiamo a prendere i biglietti per l'opera? Buongiorno, ha due biglietti in galleria per stasera? Buongiorno, ha due biglietti in galleria per stasera? Stasera no, ne ho due per sabato. A che ora comincia lo spettacolo? Allora comincia lo spettacolo. Alle venti e trenta. Ma sabato c'è la partita. Presto presto che comincia! Presto presto che comincia! Presto presto che comincia! Ma cos'è questa? Ma cos'è questa? Ma cos'è questa? è la sciarpa della mia squadra del cuore. È la sciarpa della mia squadra del cuore. È la sciarpa della mia squadra del cuore. Grazie a tutti.